Come già detto prima, queste sono le ultime lezioni, cioè c'è oggi, poi c'è domani e anche la prossima settimana sono le ultime due, poi il corso finisce e riprenderà in autunno, poi ve lo diranno quando sarà il momento. In queste ultime lezioni vediamo PowerPoint, dopo aver visto velocemente all'inizio, quando sono arrivato, come funzionava Windows, poi abbiamo fatto un po' di Word, poi fino alla scorsa settimana Excel, Oggi per chiudere, per completare quello che aveva fatto il precedente docente, che aveva fatto appunto sia Word, Excel e PowerPoint, faremo le ultime lezioni appunto con PowerPoint. Adesso, chi ha seguito fin dall'inizio, diciamo che avrà alcune nozioni in più rispetto al funzionamento base di PowerPoint, lo stesso chi ha seguito le lezioni del venerdì, saprà qualcosina di più. Comunque, riprendendo per chi non c'era, per chi non avesse avuto modo di seguire nel frattempo, vediamo un attimino un riepilogo generale di PowerPoint, a cosa serve, quali sono le funzioni principali. Adesso, mettendo in condivisione lo schermo, ecco qua, allora, questo qui è PowerPoint, quindi andando, è un programma che serve per fare diapositive, diapositive di certo tipo, di presentazioni o anche di foto, volendo, nelle ultime versioni si possono fare anche video. Questa è una cosa che hanno introdotto non da tanto. Quindi, avviando il programma, avviando l'ultima versione di PowerPoint, o comunque quella che c'è, si crea una presentazione vuota in questo modo. Adesso qui mostra due spazi, chiamiamoli così, due caselle di testo abbastanza grosse, diciamo anche se con dimensioni diverse. Che dice fare clic per inserire un titolo, fare clic per inserire un sottotitolo, quindi qualunque cosa vado a scrivere qui. Poi, quando andrò qui in basso, in questi pulsantini che ci sono qui in basso, ce ne sono diversi, l'ultimo che dice presentazione, ci faccio clic, ecco che qui mi dà la presentazione a tutto schermo, in anteprima, che vedo se le cose vanno bene, se le scritte vanno bene, se eventuali immagini o disegni o forme che ho messo vanno bene, i colori, la dimensione del testo, la grandezza, eccetera, eccetera. Cioè, tutto quello che ho messo nell'area di lavoro, chiamiamola così, nella diapositiva, possa andare bene guardandola a schermo intero. Anche perché dovete tenere sempre a mente che una diapositiva in PowerPoint può essere vista, sì, su computer, ma anche su tablet e telefoni. Ognuno dei quali ha una dimensione dello schermo diversa. Adesso, per esempio, prendendo il caso solo dei computer, io ho un computer fisso, il mio monitor è di quasi 22 pollici, in formato panoramico, ma ci sono persone che hanno uno schermo o un po' più piccolo, quindi 13, 14, 15 pollici, se si tratta di computer portatili, o ci sono monitor, per chi ha un computer fisso, anche molto più grossi, 24, 25, addirittura anche 30 o più pollici. O ci sono persone che lo portano, usano PowerPoint per fare le diapositive a scuola o all'università, il computer lo attaccano a un proiettore, questo proiettore proietta direttamente a un telone, o per chi non dovesse avercelo banalmente al muro, e lì lo stesso il proiettore crea un'immagine molto grossa, molto grande, e quindi ovviamente tutto deve essere messo bene, in modo che possa essere visibile sia su schermi piccoli, quelli possono essere quelli di telefoni e tablet, sia su schermi molto grossi, quelli possono essere i teloni di un proiettore, passando per varie altre dimensioni, ecco. Poi premendo ESC si ritorna di nuovo all'ambiente di lavoro, ecco. Oppure, se non riusciamo a districarci ancora bene con PowerPoint, non riusciamo a capire tutte le varie funzioni, perché vedete qui, qua ci sono diverse schede. Ogni scheda, chiamiamola così, al suo interno ha tanti pulsanti, ha tante voci. Questa è la prima, se io vado su inserisci, ce ne sono anche altre, progettazione è lo stesso ancora, transizioni, animazioni, presentazioni, revisioni, eccetera, eccetera, fino a guida, dove ci sono gli ultimi proprio, dove dà una guida appunto se si hanno dei dubbi, basta andare qui su guida, premere guida, esce qui un pannello dove fai una domanda e lui mostrerà appunto la guida su quella cosa specifica lì. O se no, ci sono delle varie voci, ad esempio immagini grafici, qua mi darà la guida come aggiungere, inserire un'immagine dal computer, ad esempio, premo qui e lui mi fa vedere passaggio dopo passaggio anche un video su come inserire le immagini sulle varie diapositive, quindi non solo mi dà una descrizione di testo, mi dà anche un riscontro visivo con le immagini e addirittura anche un video. Qui c'è un video, se io clicco su riproduci, ecco qui che fa partire il video, che mi dice come si inserisce un video, ecco qua l'ho messo su Word quando dovrebbe essere PowerPoint, grazie Microsoft, comunque il funzionamento è sempre quello, anche se qua fa vedere Word. Poi si chiude e comunque ogni spazio diciamo ha le sue voci, ha le sue caratteristiche, ad esempio qui il righello, se si vuole essere molto precisi con le cose, o la griglia, o le guide, tanto queste poi li vedremo dopo. Altrimenti, dicevo, se non si ha tutta questa dimestichezza, perlomeno all'inizio, con PowerPoint e le funzioni, andando qui su file, dove c'è il nuovo, qua dice altri temi, ovvero cosa vuol dire? Queste sono... Questi qui sono delle diapositive PowerPoint già pronte, quindi sono... In inglese si chiamano template, sono delle cose già fatte, quindi se io premo ad esempio su questo, ispirazione della terra, ci clicco sopra, mi viene mostrata questa finestra che dice com'è il modello, come si chiama, e qua mi dà il pulsante crea. Se io premo crea, chi non ce l'ha, viene fatto un piccolo download di questa diapositiva già pronta, di questo modello, ed ecco cosa esce. Cioè esce un modello di PowerPoint già fatto che io posso modificare poi a mio piacimento, ad esempio ci posso cambiare la scritta, ci posso cambiare, che ne so, il tipo di carattere. Qua da questa casellina posso scegliere il tipo di carattere, se farlo grassetto, corsivo, sottolineato, di quale dimensione, eccetera, eccetera. Mettro al centro, insomma, con le varie opzioni che ci sono anche su Word. Se non mi va bene l'immagine che c'è in sottofondo, ci premo sopra, tasto destro qui mi dice stile, ritaglia, se è troppo grossa o se è troppo... e non ci sta, quindi la posso anche ritagliare. altrimenti qui mi dice cambia immagine e posso scegliere da dove reperire questa immagine. Da un'immagine che ho già salvata sul mio computer, da un archivio o da internet. Ovviamente qui posso mettermi in primo piano, in secondo piano, posso aggiungerci volendo un collegamento impertestuale, un'immagine un po' raro che succeda, ma si può fare, o volendo anche salvarla, se io adesso questa immagine è presa da un modello scaricato da internet, non ce l'ho, voglio salvarla per poi inserirla successivamente in altre diapositive, posso fare tasto destro sull'immagine, salva con nome e me la salvo sul computer. Così ce l'ho già in un certo senso pronta per le volte successive. Dimensioni e posizione, dove posso metterla nella diapositiva, formato immagine, e cosa vuol dire? Qui mi dice se posso aggiungere un'ombra, oppure un riflesso, un aloni, insomma varie cose. Posso modificare questa immagine o farci anche degli effetti artistici, che ne so, farla, vediamo un po', ecco, anche in bianco e nero e formato pastello, insomma varie cose. Questo sempre in base a ciò che devo fare. qui, come al solito, vale anche ciò che dissi per Word e anche per Excel. Non abbiate paura, sperimentate. Cioè create, quando volete, una diapositiva bianca oppure prendete in una già esistente e modificatela, provate i vari tasti, provate le varie voci, senza aver timore di sbagliare e di fare qualcosa, perché qualunque cosa facciate alla fine ci sono sempre questi due pulsanti che possono tornare indietro. Ad esempio, se io prendo questa scritta, vado su Home, gli dico non mi piace questo carattere, lo voglio di un altro tipo, vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, questo qui. Ci cambio il carattere, gli ho messo questo. Poi mi accorgo che non è che sia molto adatto a questa diapositiva, perché qui sullo sfondo c'è questa tazzina di caffè, qui in basso c'è un'altra scritta con un fonte diverso, questo non è molto bello, vado qui in alto su questa freccina dove c'è scritto annulla, premo e mi riporta al punto di inizio, cioè mi annulla l'ultima cosa che ho fatto, cioè il cambio del carattere e mi rimette quello precedente. Anche qui, se io prendo l'immagine, che ne so, vado su qui, formato, ad esempio, gli faccio, gli scelgo una trasparenza o gliela tolgo tutta, ad esempio, qui non c'è più la trasparenza come era prima, ma mi accorgo che la tazzina e lo sfondo sono troppo luminosi rispetto alla scritta bianca che c'è in primo piano, anche qui, freccina, torno indietro e mi rimette tutto quanto come era prima. Quindi, che io vada a fare una diapositiva vuota da zero o che ne vada a scegliere un modello da qui, qui mi dice altri temi e anche qua mi dà delle voci rispetto alla quale mi mostra altri tipi di modelli. Lì me ne ha fatti vedere solo una parte, ma qui, ad esempio, ne posso scegliere molti di più, che ne so, in questo presentazione pennello. Ecco qui, qua, non ce l'ho scaricato, qui mi dà il nome, una descrizione, un'anteprima, faccio crea, lui me lo scarica dal sito di Microsoft. Ecco qui che mi dà già un modello di diapositiva già pronto, quindi, qua mi dà le anteprime delle varie diapositive, qua mi dà anche un numero di quante sono, qui mi dice che questo modello ha tredici diapositive, se io lo voglio lasciare così per vedere com'è, faccio l'anteprima sempre dal pulsantino in basso, dove c'è scritto presentazione, ci premo sopra e dalla tastiera con le frecce, quella destra e quella sinistra, posso spostarmi tra le varie diapositive, ad esempio, vado avanti con la sinistra, così, la destra, torno indietro, se io mi sposto tutto fino alla fine, quindi con la freccina destra vado fino in fondo, quindi alla tredicesima diapositiva, ecco qui, l'ultima è, mostra tutto nero, lo schermo tutto nero, con in altro fine della presentazione, fare click per uscire, quindi che io prema il mouse o che prema ancora il tasto destro della tastiera, lui esce e si porta all'ultima, perché è quella che è stata vista, adesso qui posso decidere se mi sta bene così, ci cambio soltanto le scritte, il nome, le immagini le tengo, questo ad esempio è per chi può avere un negozio di abbigliamento, quindi se io ho un negozio di abbigliamento, conosco qualcuno che ha un negozio di abbigliamento e mi ha chiesto di fare una presentazione per sponsorizzare la propria attività o lo faccio da zero o scelgo questo modello se vedo che mi va bene ci cambio solo i nomi oppure posso personalizzarlo, posso dargli un carattere, posso dargli il logo del negozio, posso fare qualunque cosa, quindi posso personalizzarlo in tanti modi, ecco. poi ovviamente se una diapositiva di queste qui non mi sta bene, ad esempio facciamo questa del grafico, non mi sta bene, tasto destro posso eliminarla facendo elimina diapositiva, posso duplicarla o crearne una nuova da zero, posso dirgli anche da qui posso scegliere un'impostazione, un layout, cioè di come apparirà qui da sempre l'immagine con l'anteprima di cosa uscirà, quindi se non mi sta bene il grafico fatto in questo modo posso mettere che ne so questo formato qui che è bruttissimo ma è giusto per dare un'idea oppure posso fare nuova diapositiva me lo sposta in basso mi crea una nuova diapositiva vuota ovviamente con il suo il suo layout che qui mi dice titolo e contenuto che volendo posso ancora cambiare oppure posso scegliere direttamente vuoto ovvero ci premo e mi esce la diapositiva bianca l'unica cosa che esce qui è questa data il titolo il numero della diapositiva numero che viene aggiornato in automatico quindi se io adesso qui che mi dice diapositiva numero 7 che è quella che corrisponde qui se io vado sopra sulla tabella faccio nuova diapositiva questa passa alla numero 8 e qui da 7 diventa 8 quindi me lo cambia lui in automatico quale foto lo stesso le foto posso cambiare come ho già detto prima se io faccio cambia immagine li metto da origine online si apre questa finestra dove posso ho varie voci a disposizione da scegliere oppure digito direttamente qui quello che voglio che ne so i vestiti vediamo cosa mi dà vediamo shop niente indietro nulla nulla facciamo facciamo cibo ma qui si è verificato un errore comunque qua escono tutte le immagini se ne sceglie una e verrà messa al posto di quella che abbiamo scelto o come ho già detto prima facendo cambia immagine da file se abbiamo un'immagine già salvata nel nostro computer la prendiamo da qui altrimenti se non voglio una foto ma voglio un'icona un disegnino qua lo stesso ho varie categorie analisi istruzione cibo e bevande lavoro vediamo qui che ne so abitazione se io voglio la casa premo faccio inserisci e mi mette appunto la casetta che ho scelto al posto della foto anche qui non mi piace torno indietro con la freccina e mi riporta a quello di prima la stessa cosa se come ho già detto prima non mi piace più tasto destro elimina diapositiva e me la elimina quindi ho tante possibilità di personalizzazione qua formato sfondo posso scegliere che sfondo dare alla diapositiva se è tinta unita qui è bianco premo sul questo secchiello posso dirgli boh fammela azzurra ecco che è bruttissimo però qui dove c'è scritto trasparenza che è 0% se io vado su questa barrettina qui e la sposto sulla destra o vado su questa freccettina dove c'è lo 0 gli dico fammi lo sfondo più trasparente quindi non azzurro carico ma facciamo un 80% così in modo da dargli questo celestino chiaro altrimenti dovrei andare qui e cercarlo o in mezzo a questi colori già predefiniti o se no devo andare su altri colori e da qui con il mouse scegliere spostarmi fino a quando non trovo il colore desiderato anche qui c'è questa questa barra che dice trasparenza 0% 100% che mi diventa bianco 0% mi ritorna come prima così o se no sfumato posso dirgli dammi un riempimento con una sfumatura posso scegliere anche che tipo di sfumatura dargli ad esempio se io premo facciamo questo ecco come mi viene lo stesso anche qui posso scegliere se è troppo carico una trasparenza ma anche qui ci sono varie cose ad esempio direzione non mi piace questa direzione qui lo voglio così lineare anzi facciamolo dal così ecco che la sfumatura parte da questo angolino in basso a sinistra fino all'angolino in alto a destra così in diagonale qui posso lasciarci i colori che ci sono già oppure selezionarne ciascuno e dirgli che colore vuole essere ad esempio prendo il primo che si trova tutto sinistra e qui dice posizione 0% perché se io lo voglio da un'altra parte mi basta trascinarlo ecco che la diapositiva cambia già cioè mi sposto sposto questo colore dove voglio o lo faccio da qui lo stesso posso spostarlo anche da qui e qua si muove o andando qui ci scelgo il colore ad esempio non mi piace questo rosso carico questo qui lo faccio un po' più scuro posso decidere lo stesso se dargli una trasparenza a questo colore o no così o così insomma fino a quando è il massimo che diventa quasi bianco stessa cosa per la luminosità posso scegliere quanto deve essere luminoso o meno tutto 100% è bianco 0% è nero se no si lascia a 0 altrimenti si ritorna a come era prima era se non sbaglio il 52 sì lo stesso vale per gli altri colori gli altri tipi di sfumature di colore che ci sono in questo spazietto che poi qui me ne ha messi tre ma volendo possono essere due o anche più di due se ad esempio voglio solo due colori per la sfumatura non ne voglio tre prendo il colore che non mi piace che non mi serve ad esempio questo centrale tengo premuto il tasto sinistro del mouse lo trascino fuori ed ecco che mi viene tolto oppure premo questo pulsantino qui che mi dice rimuovi interruzione di sfumatura o se non mi bastano posso aggiungerne altre ad esempio ne voglio aggiungere altri due premo due volte su questo pulsante anche qui posso spostarmi o lasciare così com'è al massimo cambio solo i colori vado con il mouse clicco sopra su ogni di queste di questi simbolini qui c'è il pulsante con il secchiello scelgo il colore non mi piace il rosa posso fare lo stesso che ne so con il grigio vediamo un po' facciamo così questo è un esempio e posso crearmi anche la mia sfumatura personalizzata o se no lo faccio più azzurrino insomma ci sono vari modi di fare uno sfondo con i colori che ci piacciono di più altrimenti c'è riempimento immagine o trama qui c'è un pulsante che dice scegli una trama o un'immagine di sfondo da mettere che ne so questo delle trote oppure qui c'è inserisci e mi fa mettere un'immagine che ho già salvato io sul computer quindi se non mi piacciono queste qui metto inserisci oppure banalmente prendo qui l'altra diapositiva questa qui del caffè la seleziono tasto destro faccio copia rivado di nuovo su questa qui qua mi dice origine delle immagini come io ho copiato l'immagine del caffè prima c'era solo inserisci qua mi dà oltre a quello mi dà appunti perché ha trovato un'immagine copiata se io premo appunti ecco che mi mette l'immagine del caffè come sfondo quella che ho selezionato quella che ho selezionato prima adesso questa era già trasparente perché ha preso anche la trasparenza qua non me la fa vediamo no non me la fa cambiare comunque avendo un'immagine classica diciamo così lui la mette nel formato corretto nel modo corretto poi qui alla fine mi dice applica questa immagine a tutte le diapositive o se no reimposta a sfondo ecco che me lo riporta come era prima mi annulla tutte le modifiche che ho fatto e me lo riporta a bianco riempimento a motivo mi dà un altro tipo di riempimento ovvero qua mi dà un'anteprima anche qui posso scegliere colore dello sfondo e colore di riempimento ne premo qualcuno mi dà questo a righine insomma qua nei pulsanti c'è un'anteprima su come mi viene lo sfondo anche qui se non mi piace così posso farlo arancione o mattone posso insomma dare o anche così appuntini qui uguale posso dare diciamo uno sfondo se non mi piace il bianco se non mi piace quello classico posso scegliere se dare uno sfondo con un colore unico sfumato con un'immagine una foto una trama di quelle già preesistenti o dagli appunti copiata dagli appunti un motivo o se non gli dico nascondi grafica di fondo queste qui mi nasconde appunto questa chiamiamola pennellata strana chiamiamola così dello sfondo che non posso modificare ma gli dico nascondimela quale scritte sono bianche posso dargli un colore che ne so grigio quindi in questo caso non mi piace l'immagine di sfondo ma mi piace quello quello che c'è scritto posso qui posso fare bianco automatico però ci cambio solo il colore delle scritte se io premo di nuovo qui nascondi grafica di sfondo ci tolgo questa spunta sulla casellina ecco che mi ritorna questa cosa qui che c'era sullo sfondo e questo vale per tutto ovviamente vale per qualunque cosa come ho già detto sia che usiamo un modello predefinito quindi uno già fatto dove basta solo modificare quelle due tre cose o usarlo come base di partenza per le nostre diapositive ad esempio non mi servono tutte queste posso cancellarle vediamo seleziono una poi tengo sulla tastiera premuto il tasto delle maiuscole vado sulla seconda su questa in basso me le seleziono ovviamente tutte quante tranne la prima tasto destro elimina diapositiva quindi mi lascia solo la prima questa qui posso usarla come introduzione come presentazione appunto perché è la prima poi posso andare nuova diapositiva e scegliere se duplicarla se fare una nuova o di un altro tipo ad esempio la faccio titolo e contenuto la seconda qui mi dice inserisci un titolo inserisci del testo ma ci sono questi pulsantini dove mi dice posso inserire una tabella posso inserire un grafico un elemento grafico un modello 3d un'immagine un'immagine di archivio addirittura anche un video video che deve essere appunto salvato sul computer o un'icona come abbiamo già visto prima cioè uno di questi disegnini ad esempio vediamo un po' no un'immagine a casaccio la metto qui ecco che me la piazza se io torno indietro ovviamente mi fa tutto il resto se io metto una tabella qua mi dice numero di colonne numero di righe per adesso lascio così ok ecco che mi crea una tabella che io poi posso riempire posso scriverci e posso metterci quello che voglio lo stesso posso farci tante cose posso posizionarla posso dargli un'animazione posso dirgli disegna tabella come su word dargli un colore diverso che ne so così o darci io creare io nuove caselle o darci un bordo con questo qui disegna tabella ecco che se ci vado sopra con il mouse vediamo un po' cosa esce si crea questa tabellona enorme o la gomma che lo cancella cancella quello che ho fatto addirittura qua ci posso mettere una riga del totale righe intestazioni prima ultima insomma mi dà varie opzioni ecco quindi anche qui posso fare molte più cose poi tornando indietro così posso dirgli addirittura fammi una diapositiva vuota e questo ci metto quello che voglio io quindi vuota o totale libertà scusami un'ignoranza sì prego perché io il powerpoint no io uso il pc soprattutto per le foto me le archivio me le sposto creo cartelle eccetera adesso ascoltavo del powerpoint ma sarebbe creare un album di diapositive varie che io posso prendere come dicevi dall'internet e posso anche prendere le mie foto sì volendo sì 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 se si vuole fare un archivio fotografico in diapositive volendo si può anche fare ma poi le posso vedere sul desktop del pc oppure le posso anche proiettare su dei teli dicevi prima sì io ho il telone famoso delle diapositive e foto con la con la la pellicola quindi potrei usare cioè il pc mi proietta sul telo allora il il proiettore deve essere collegato al computer ah sì 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 quindi lì se il proiettore è adatto a essere collegato al computer con un cavo lì poi ogni proiettore ha le sue istruzioni su come far vedere le cose comunque il computer si conosce adesso ricordo adesso ricordo che andando a certe conferenze così mi facevano vedere tutte queste proiezioni e venivano fatte in questo modo esatto lì c'è un portatile un computer portatile per comodità con un cavo collegato al proiettore e da lì si manda la diapositiva di powerpoint sul proiettore che poi le manda sul telone ho capito grazie grazie però se il proiettore non è di quelli che si possono collegare al computer allora no no il mio è quello vecchio di una volta solo per le diapositive delle foto sì 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 lì sarebbe da convertire le diapositive in formato cioè stamparle farle in formato adatto a quel proiettore lì ma costa una barca di soldi poi oltretutto non so se ci sono ancora delle dite che le fanno queste cose se ci sono sono pochissime e si fanno pagare una barca di soldi e forse si dice scannerizzare scannerizzare le diapositive ah ecco c'erano delle persone che lo dicono di uso comune anche se il termine è corretto sarebbe scansionare perché fa una scansione scansionare le diapositive vengono riprodotte in forma giusta per il pc esatto vengono trasformate su pellicola vengono stampate su pellicola e poi ritagliate quella è una cosa che facevano anche i fotografi fino a non molti anni fa venivano stampate su pellicola in una camera particolare ritagliate della giusta misura messe nella loro chiamiamola cartuccia anche se c'è un nome specifico delle dimensioni del proiettore ecco allora lì si potevano vedere con questi proiettori però adesso è tutto digitale quindi c'è un cavo direttamente al computer da lì si avvia powerpoint viene riconosciuto e dice invia quando si preme questo invia dall'inizio lui riconosce che c'è il proiettore collegato invece di farlo vedere sullo schermo lo fa vedere sul telone cioè sì 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 questo qui però se c'è un proiettore vecchio non so neanche se convenga arrivato a questo punto perché appunto non facendole più queste cose chi le fa chi dovesse farle ancora si fa pagare bene sì 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 è vero è vero bisogna sempre valutare queste cose se la spesa vale quello che si vuole avere ah no bisogna perché se io ad esempio ho dieci foto e rinnovarsi con i nuovi sistemi esatto se ho dieci o venti foto che voglio conservare vedere nel proiettore e magari trovo il fotografo o l'agenzia che me lo fa e per fare questo lavoro mi chiede trecento euro per venti foto non so fino a che punto la spesa possa valere sto sparandoci a casaccio ma per dire che sono costi altri quelle analogiche le guardo ancora con il proiettore con il telo eccetera quando voglio perché quella è una pellicola fotografica ovviamente più un po' più grossa del normale stampata appositamente dal dal fotografo e si puoi messi nei telaietti e poi dopo ci sono i vari contenitori dove si infilano tutte sì 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 infatti quindi quello adesso non lo fa così ma io adesso volevo chiedevo lo scansionare queste diapositive di una volta con la stampante mi sembra si può fare e tu allora ci sono degli scanner la ritrovi poi nel pc ci sono degli scanner che hanno una fessurina apposta per le diapositive però bisogna cercarlo ah io mi ricordo adesso dei vecchi anche lì te l'hai letto e poi dopo lo scannerizzi sì sì si inseriscono una per una mi sembra io mi ricordo dei vecchi modelli di scanner e stampanti epson che avevano questa fessurina adatta dove si potevano mettere le diapositive lui faceva la scansione stampava direttamente senza neanche essere collegato al computer o col computer spento quindi quindi bastava accendere la stampante faceva tutto premendo dei tasti che c'erano lì sì 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 però adesso il cognato lo faceva l'aveva fatto poi l'aveva smesso sì 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 lì bisogna vedere se li fanno ancora e quanto costano ok grazie prego dicevo qua come ho già detto si possono inserire o addirittura se io questa diapositiva mi piace tanto è fatta bene voglio soltanto cambiarci le le scritte qui ma non mi va di rifarla da capo posso prendere tasto destro duplica diapositiva quindi ne faccio una copia qui mi viene l'originale qua c'ho la copia sotto e questa volendo la posso modificare ci posso scrivere altro o posso cancellare così faccio inserirci immagine o una forma che ne so voglio metterci questo cerchio perché poi voglio metterci altro voglio inserirci altre cose posso farlo oppure metterci dentro del testo modificarlo eccetera eccetera adesso piccola nota tra parentesi per quanto riguarda le forme adesso cancello questa se io vado su inserisci forme qui c'è una piccola freccettina dove mi fa scegliere da questo elenco la forma che voglio creare qua me ne da diversi mi da rettangoli mi da linee frecce stelline e altre cose ad esempio io voglio come ho visto prima il cerchio voglio un cerchio premo se io premo tengo premuto il tasto sinistro del mouse però cosa succede se io voglio un cerchio perfetto facendo così vado a occhio quindi non sarà mai preciso al 100% se invece lo voglio proprio perfetto cosa faccio tengo oltre a tener premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare appunto fino a quando non vedo la dimensione che mi piace allo stesso tempo tengo premuto sulla tastiera il tasto delle maiuscole quindi facendo così io posso ingrandire e rimpicciolire e mi verrà sempre un cerchio perfetto se mollo il tasto della maiuscola sulla tastiera ecco che mi ritorna di nuovo diciamo la grandezza a mano libera lo ripremo di nuovo mi esce il cerchio perfetto quindi se mi va bene che ne so di questa dimensione mollo sia il tasto sia il mouse ecco qui che mi viene un cerchio proprio perfetto e me ne accorgo perché qui mi da dove c'è formato altezza larghezza sono le stesse se non mi piace posso fare qui gli do una dimensione che ne so gli do 8 cm e glielo ripeto anche qui premo invio ecco che mi fa il cerchio 8x8 altrimenti vado qui su uno degli angolini tengo di nuovo premuto il tasto delle maiuscole tasto del sinistro del mouse ingrandisco rimpicciolisco stessa cosa per le altre forme adesso se io faccio il classico rettangolo ovviamente a mano libera posso fare anche un quadrato volendo oppure se voglio proprio un quadrato preciso tengo premuto lo stesso il tasto della maiuscola e mi viene un quadrato un quadrato scusate preciso questo quadrato qui poi qua c'ha le solite voci trasparenza tinte eccetera eccetera qua c'ha questo cerchietto con una freccettina sta a indicare che se io lo premo posso ruotarlo posso ruotarlo così o a mano libera altrimenti di nuovo premo il tasto delle maiuscole e me lo fa di rotazioni ben precise 90 60 120 180 eccetera eccetera se mollo di nuovo il tasto delle maiuscole ecco qui che non ha più non è più legato ai gradi di rotazione glieli do io manualmente anche qui dimensione larghezza altezza tasto destro posso cambiarci il contorno darci un commento uno stile che ne so vediamo un po' vediamo facciamo questo ecco che me lo cambia riempimento arancione contorno nero ma si tanto questo non deve vincere nessun premio linea posso dargli anche la linea il colore della linea il tipo insomma posso farci tante cose oppure nessuna linea o linea sfumata anche qui darci una sfumatura così che non si vedrà mai però si può dare lineare l'angolo o niente trasparenze e via dicendo oppure anche un'ombreggiatura o farlo tridimensionale ad esempio voglio così e mi ha dato un effetto 3D molto brutto però me l'ha dato che volendo poi posso cambiare anche da qui posso farci tante insomma tante cose ecco qua un quadrato da premio nobel oppure se voglio il classico triangolo ritorno qui mano libera faccio così ad esempio e gli do la dimensione poi lo posiziono dove voglio oppure lo faccio qui di colore bianco e me lo porto qua giù ad esempio vi tolgo anche la linea li metto nessuna linea e qua volendo posso metterci anche altra roba che ne so tasto destro faccio modifica testo e qua dentro ci posso scrivere ovviamente qua adesso il testo è bianco glielo do nero ok e posso scrivere direttamente dentro la forma anche qui potendoci scrivere giustamente posso dargli posso cambiarci la disposizione del testo cioè adesso ve lo ingrandisco un attimino facciamo 20 qua ingrandisco lo zoom guardate guardate io adesso ho selezionato il testo così guardate il carattere questo carattere qui è un centri goti che l'ha messo lui in automatico ma volendo si può cambiare la distanza che c'è tra le lettere tra una lettera e un'altra è di una certa dimensione se io questo testo lo voglio voglio che le lettere siano più vicine o più distanti seleziono il testo poi dove qui ci sono i pulsanti del grassetto corsivo sottolineato qui addirittura ombreggiatura cioè se io premo mi dà una piccola ombreggiatura a questo testo ma poi c'è il barato e questo qui dove c'è scritto av dice spaziatura tra i caratteri consente di regolare la spaziatura tra i caratteri ovvero questo spaziatino che c'è tra una lettera e un'altra se io premo lui mi dà di di suo di default il normale se io vado su stretto me li fa più riavvicinati molto stretto sono attaccati viceversa se io ritorno di nuovo su normale scendo giù vado su ampia me li allarga molto ampia me li allarga ancora di più oppure faccio altre opzioni di spaziatura se vedo che tutte queste voci non mi soddisfano non hanno quella che piace a me posso dirgli spaziatura normale espansa o ridotta quindi più largo o più stretto di quanti punti e qua dice crea natura caratteri di 12 punti oltre anche questo posso aumentarlo o diminuirlo quindi se ad esempio qua facciamo qui in alto c'è scritto pennello qui voglio metterci largo pennello largo seleziono la scritta magari la ingrandisco un pochino come dimensione vado qui su av posso fare molto ampio qui adesso qui ci metto nessun gli tolgo lo sfondo metto nessun riempimento diminuisco un pochino lo zoom faccio che ne so la scritta ovviamente bianca che così la sfumatura si vede ancora di più e me la posso giocare così questo volendo posso fare il rettangolo posso farlo più stretto o meno posizionarmelo poi dove voglio non importa adesso se io avevo continuava a mantenere lo sfondo bianco ovviamente mi andava a sovrapporre la scritta se io gli faccio nessun riempimento ovviamente lo sfondo viene tolto diventa trasparente quindi non importa dove posiziona la scritta perché quello che c'è sotto continuo a farmelo vedere logicamente se io ci vado sopra mi copre la scritta sopra questo ma facciamo minuscolo così anche qui applica tutte o rimuovi sfondo se ho fatto delle modifiche che non mi piacciono più voglio ripristinare quello che era all'origine qui ovviamente se c'ho adesso per completare tutta questa cosa faccio inserisci metto icone vediamo se mi da un pennello ecco qua il pennello classico del muratore bello largo che ovviamente ingrandisco metto qui riempimento gli diamo questo suo altrimenti se io voglio questo colore uguale non mi ricordo o qua non riesco a trovarlo in questa casellina vado in basso preleva colore mi porto sul colore che voglio copiare premo il tasto sinistro del mouse e lui me lo fa uguale ecco qua quindi ci sono molte cose ci sono molte possibilità di personalizzazione sia come immagini che come sfondi che come effetti colori scritte e tutto quanto ancora come come è giusto che sia ovviamente adesso togliendo queste due quindi elimina elimina ad esempio qui cancello questo ok vediamo ci metto un'altra icona giusto per riempire lo spazio vuoto vediamo se mi da secchiello si scriverlo bene magari no colori sì tavolozza c'è anche il pavone non capisco ma vabbè facciamo finta di niente qui ingrandisco un attimo ok qua li do di nuovo vado su per leva colore lo voglio fare così rosa magari lo ingrandisco un pochettino di più ok qua adesso voglio ora se io faccio di nuovo anteprima oppure premo banalmente f5 dalla tastiera qui mi porta la prima mi sposto con il mouse faccio clic col mouse o con le frecce della tastiera ovviamente mi passa da una diapositiva all'altra fino a quando non arriva la fine che dice premi per uscire e quindi mi riporta di nuovo a powerpoint e facendo così mi porta ovviamente all'ultima diapositiva quindi adesso sono due però se sono tante qua esce la lista la lunga fila di diapositive fino ad arrivare all'ultima che si riconosce perché evidenziata da questo bordo color mattone ecco ritornando alla prima ad esempio io voglio che la tavolozza dei colori abbia un'animazione cioè quando io avvio la presentazione le diapositive voglio che questa immagine sia animata e come si fa qui c'è la voce animazioni quindi premendo qui mi dà tutta una serie di animazioni con il loro nome qua ovviamente ce ne sono molte di più se io premo su questo pulsantino con la linetta e la freccettina in basso mi trova mi fa vedere tanti altri tipi di animazioni ovviamente se non bastano qui ci sono altri effetti di entrata di enfasi di uscita altri percorsi di animazione che ne so io voglio ne prendiamo uno a caso voglio che questa abbia un effetto di rimbalzo quindi premo innanzitutto seleziono l'immagine poi premo qui rimbalzo qui mi dà già un'anteprima mi dà già un'anteprima e mi dà questo rettangolino vediamo se si mi dà questo rettangolino con un 1 vuol dire che questa è la prima animazione qui addirittura se io non voglio adesso diminuisco lo zoom faccio così qua non voglio avviare le diapositive dall'inizio qui mi dà il tasto anteprima anteprima se io ci premo sopra ecco qua che mi dà l'anteprima con l'effetto quindi l'effetto di rimbalzo qui posso aggiungergli anche altre animazioni non è che è limitato solo a uno posso aggiungere altre animazioni oppure se ho esigenze di personalizzare questa animazione particolare vado qui riquadro animazione qua mi dice una serie adesso lo ingrandisco un pochino qua mi dice ovviamente che è col mouse quindi se io faccio così quindi avvio la presentazione dall'inizio faccio click sul mouse ecco che mi appare l'animazione cosa che non mi esce normalmente quando avvio la depositiva dall'inizio o premo la freccia ecco perciò se io voglio che questa animazione di questo disegno parte in automatico ogni volta che io faccio partire la presentazione da subito qui ho una freccittina dove qui dice elemento grafico che mi dà anche un riepilogo cioè al click del mouse in entrata rimbalzo ecco qui se io faccio mi dà un altanteprima se faccio riproduci da mi dà l'anteprima oltre a questo pulsante qui ma se io vado su questa freccettina faccio inizia con il precedente quindi da 1 diventa 0 ecco qui che io appena premo f5 o premo il pulsante di avvio della presentazione di powerpoint mi parte in automatico quindi se io faccio di nuovo qui avvia dall'inizio non ho più bisogno di premere il mouse come prima in modo da far ripartire l'animazione di questo di queste immagini di questa icona ma glielo dico da qui perché ritornando indietro adesso io annullo questa modifica cosa succede qui ritorna l'uno quindi questo cosa vuol dire che la prima diapositiva viene viene considerata 0 ovviamente essendo 0 è quella che parte all'inizio l'animazione qui viene segnata come 1 questo questo disegno qui questa icona qui viene contrassegnata con un 1 quindi questo cosa significa se io faccio ripartire di nuovo la diapositiva dall'inizio per mostrare l'immagine animata devo per forza o premere la freccia sulla tastiera o il mouse quindi se io premo il tasto sinistro del mouse ecco che esce l'animazione invece io voglio che parta fin da subito quindi devo selezionare l'immagine andare qui dove c'è riquadro animazione se non è presente se è così vuoto qui dove c'è scritto animazioni qui c'è riquadro animazione lo premo vado qui sulla freccina gli dico inizia con il precedente facendo così da 1 mi passa a 0 e questo vuol dire che quando avvio powerpoint la presentazione dall'inizio ecco che è la prima cosa che parte insieme a tutto il resto qua oltretutto posso dargli una durata ovvero qua mi dice che questa animazione questa qui dura due secondi ma io volendo posso farla più veloce andando qui dove c'è durata da 0 2 gli metto 0 1 quindi la faccio durare un secondo anche qui questa cosa questo rettangolino verde si è ristretto ovviamente se io ci vado sopra sui bordi col mouse posso lo stesso allungarlo e restringerlo accanto mi dice fine con il numero di secondi che voglio quindi se io mollo qui che mi dice 2,8 ecco che anche qui mi verrà 0,2 80 cioè 2 secondi 8 se io lo voglio a un secondo o vado da lì nella casellina in alto o lo sposto da qui fino a quando non arriva a 1 eccolo qui un secondo anteprima ed è molto più veloce logicamente se io da un secondo vado a 3 faccio così 3 secondi anteprima è molto più lento ovviamente adesso ritornando a 2 qui come ho già detto posso aggiungere un'altra animazione ad esempio se io faccio qui pulsazione qua mi dà 0,1 ovvero mi ha aggiunto l'elemento di rimbalzo e qua che mi dà una pulsazione anche ad esempio ecco qua ho fatto una piccola pulsazione qui lo stesso uguale posso decidere quanto duri questa pulsazione o meno ed esce con lo stesso il mouse adesso se io faccio l'anteprima di nuovo dall'inizio ecco qui qua mi ha fatto l'animazione perché gli ho detto fammela partire all'inizio della presentazione di powerpoint però se voglio che questa immagine faccia quella piccola pulsazione devo per forza premere il mouse o la freccina della tastiera quindi se io premo col mouse adesso ecco che mi fa la pulsazione se io premo di nuovo mi passa alla diapositiva successiva anche qui per fare questo seleziono la seconda voce questa che mi dà 1 freccina inizia con il precedente e quindi qui non è più 0 e 1 ma sono sono due zeri praticamente come se fossero due zeri e parte fin da subito adesso io rifaccio di nuovo l'avvio parte l'animazione 1 dovrebbe partire anche l'altra comunque partono tutte e due anche qui posso decidere se è più se farla durare di più farla durare di meno ecco qua qua c'è sempre l'anteprima o da qui da questo pulsante oppure da quest'altro in altro adesso questi qui ovviamente si possono anche eliminare quindi si seleziona tasto destro rimuovi rimuovi e io tolgo l'animazione uguale anche questo qui tasto destro rimuovi perché non mi piace più quel tipo di animazione la voglio di un altro tipo ad esempio che mi vada da su verso giù così però se vedo che anche qui li facciamo inizia col precedente per iniziare subito qua mi parte dal centro e si sposta verso il basso non mi piace io voglio che mi parta proprio da in alto quindi adesso diminuisco un attimo lo zoom qui opzioni effetto mi mostra questo pulsante dove c'è scritto opzioni effetto e qui mi dice verso il basso verso sinistra verso destra verso l'alto ora io lo voglio sì verso il basso cioè che scenda come nell'anteprima ma non da questa posizione non voglio che facciala qui quindi io premo premo il queste queste due estremità l'animazione la porto un attimino in alto la porto così che ne so un po' al pelo diciamo dell'inizio della diapositiva vediamo anteprima ecco che mi fa l'animazione se vedo che in basso è troppo cioè scende troppo in basso prendo sempre con il mouse questo cerchietto rosso lo sposto un attimino in alto lo sposto qui lo metto qui al centro gli do l'anteprima riproduci da ecco che mi scende dall'alto e mi arriva al centro scusa Adriano sì posso parlare un attimo prego io trovo molto interessante la lezione però adesso purtroppo mi devo sentare domani c'è ancora sì ci sono ancora comunque deve sapere che queste lezioni sono registrate anche sì sì poi me lo posso risentire vedere comunque ci sono anche domani a che ora dalle 16 alle 17 grazie mille a domani arrivederci arrivederci quindi ovviamente anche qui posso decidergli quanti secondi dargli da dove partire da dove no adesso qua come ho già detto posso decidere la direzione cioè gli ho detto fammi mostrami quest'immagine questo disegno o la foto quello che è con questa animazione che va dall'alto che c'è questo pallino verde fino in basso dove c'è il pallino rosso sbloccata o bloccata questo poi vedremo un'altra volta cosa vuol dire cioè bloccata che che gli do un'animazione una direzione però poi non posso più muoverla invece io voglio che sia libero e gli do sbloccata ad esempio si può anche dare un'inclinazione se io vado qui su questo angolo sull'angolino estremo destro così gli do questa inclinazione cosa succede se io gli do l'anteprima mi entra obliquo quindi non è solo dritto volendo non gli do solo l'animazione diciamo dritta quindi dal basso all'alto dall'alto al basso ma gliela posso dare anche obliqua così vi faccio di nuovo questa cosa mi viene laterale mi viene un'animazione laterale poi qui ci sono varie voci se io ho tanti effetti da aggiungerci che ne so rifacciamo di nuovo vediamo un po' zoom questo me l'ha sostituito allora vediamo se me lo dà di nuovo aggiunge animazione zoom ok quindi questo me l'ha messo sotto posso aggiungergli tutte le animazioni che voglio posso fare inizia con il precedente al flick del mouse che è il predefinito inizia con il precedente inizia dopo il precedente quindi se io faccio inizia dopo il precedente cosa succede qua mi dà una specie di orologio qua mi dà il tempo dell'animazione ecco che quello l'animazione successiva me la piazza dopo non insieme perché se io faccio inizia con il precedente ecco che me la mette all'inizio e non riesco a vederla perché se io faccio riproduci qui così vediamo se me lo fa di nuovo non mi mostra appunto l'animazione però se io vado di nuovo qui sulla seconda che ho messo gli dico mostrami questa animazione dopo la prima vado di nuovo sull'anteprima entra e fa la seconda animazione cosa che invece non succede se io faccio iniziamelo con la precedente perché parte già con lo zoom ridotto e quindi non vedo appunto questa animazione in obliquo appunto facendo così mettendo inizia con il precedente rifaccio di nuovo l'anteprima non mi esce nulla invece mettendo la seconda la seconda animazione gli dico inizia dopo il precedente rivado di nuovo sull'anteprima ecco che me le mostra tutte e due poi ovviamente vado o con il mouse o con la freccia passo alla seconda passo alla seconda quella successiva ecco qui anche qui posso dargli effetto grafico opzioni effetto centra soggetto centra diapositiva posso dargli altre cose oppure vado qui sempre sulla freccina opzioni effetto qua posso dargli varie opzioni ovvero centrarlo centra oggetto a centrare quello che ho selezionato oppure metterlo al centro della diapositiva qui ero andato un po' a occhio facendo così centro diapositiva me la piazza proprio centrata bene qua posso dirgli di mettere un suono quando raggiunge la fine dell'animazione qui non c'è niente ma se voglio posso mettere un applauso qua ovviamente mi dà l'anteprima se io ci premo mi dà l'anteprima del suono posso decidere quanto deve essere il volume di questo suono o addirittura disattivarlo se proprio non lo voglio ma qui se non lo voglio gli lascio nessun segnale acustico ed è finita lì invece faccio applauso ok ecco che parte un applauso per dire che è stata una bellissima animazione quindi rifacendo di nuovo prima perfetto qui ovviamente li tolgo ecco qua adesso riproducendo dall'inizio esce così quindi ci sono vari modi di personalizzare anche il testo se io voglio questo testo qui vado di nuovo su animazioni ne scelgo uno ecco qua ecco qua che è partito eh andiamo un po' allora qui chiudo ecco qua qua lo stesso mi da uno se io vado se io vado su riquadro animazione posso prendere qui me lo segnala già me lo segnala già essendo un'animazione aggiunta dopo alle altre due ovviamente me lo metto in basso ma se io vado con il mouse con il tasto sinistro tengo premuto posso spostarla in alto e portarla per prima anche qui ovviamente devo fare se voglio tutto insieme clicca su questo pulsantino sulla freccina inizia con il precedente riproduci per l'anteprima ecco qua come esce ovviamente qui se l'animazione mi sta bene a un secondo lo lascio così o lo metto a due secondi faccio 0,2 anteprima ecco che è molto più lento posso dargli diversi effetti anche qui posso scegliere il clic del mouse con precedente dopo precedente non l'ho messo precedente quindi parte da proprio da 0 adesso rimetto 1 di nuovo anteprima tutto schermo ecco qua per uscire sempre il tasto esc qui mi dice opzioni di affetto comparsa verso l'alto o comparsa verso il basso se io faccio verso il basso ecco come mi esce appunto verso il basso e oltretutto oltretutto c'è anche un'altra cosa io ad esempio non voglio che questa immagine abbia più queste animazioni quindi da qui le posso eliminare faccio rimuovi me le ha tolte però mi piace questa animazione qui cioè voglio che questa tavolozza dei colori abbia lo stesso effetto abbia la stessa animazione cioè che vada così sfumata dall'alto verso il basso come funziona come posso metterglielo qui o riscelgo di nuovo il pulsante da qua quindi vado su animazioni comparsa premo questo qui poi vado di nuovo su opzioni effetto gli dico scomparsa verso il basso o molto più semplicemente seleziono prima la casella di testo che è quella che ha l'animazione che io voglio copiare copia animazione premo qui mi sposto qui il mouse è diventato la freccina con un pennello quindi mi ha copiato questa animazione che c'è qui premo qui la tavolozza ecco qua e lui mi ha copiato l'effetto e lo stesso mi ha messo anche la posizione cioè lo zero questo vuol dire che partono tutte e due insieme se io adesso vado qui faccio l'anteprima ecco che partono tutte e due insieme allo stesso momento uguale se faccio l'anteprima a tutto schermo uguale anche qui se io voglio che questa scritta e quella successiva abbiano la stessa animazione cosa faccio prima con il mouse seleziono la casellina la prima casellina tengo premuto il tasto della maiuscola della tastiera e con il mouse vado a prendere il secondo quindi me le seleziona tutti e due qui ci do un'altra animazione vediamo un po' facciamo facciamo così rotazione ecco che mi dà la rotazione a tutte e due qui ovviamente devo dirgli con precedente in modo da mettermelo all'inizio quindi se io vado qui faccio anteprima ecco che mi dà l'animazione lo stesso se vado lo schermo quindi torno dall'inizio questa mi fa la sua animazione giusta cioè che sia il testo la scritta pennello sia la tavolozza abbiano questo tipo di animazione sfumata dall'alto verso il basso passo alla successiva ecco che mi fa l'animazione sia della scritta pennello sia della scritta largo ovviamente l'immagine qui del pennello non ha nessuna animazione ovviamente è rimasta così è rimasta statica ferma insieme allo sfondo quindi se volessi dare un'animazione anche al pennello qua posso scegliere vediamo un po' facciamo un arco facciamo così vediamo cosa mi dice sì mi fa questa animazione abbastanza strana io lo posso spostare qui vediamo un po' vediamo portiamolo un attimo qui vediamo che succede qua lo faccio ovviamente inizia dopo il precedente ok quasi vediamo di spostare un attimino più in qua vediamo un po' ok quindi se io vado adesso rifare l'anteprima di questa diapositiva quindi senza ripetere di nuovo questa ecco qua con animazione un po' brutta l'ho messa un po' male comunque deve dare l'idea quindi io posso spostarla anche qui questa animazione e vediamo un po' questo lo porto il pennello lo porto un po' più in dentro vediamo un po' lo porto così gli metto porta in secondo piano anteprima ecco qui poi come ho già detto ognuno porta cioè si possono spostare le immagini ingrandire e impicciolire lo stesso qua posso spostare l'animazione cioè dirgli che parta da qui e arrivi fino a qui adesso faccio di nuovo l'anteprima ecco che me l'ha spostata più in là posso scegliere di quanto di quanto spostarlo di dove iniziarlo addirittura a dargli un ritardo cioè io gli dico fammi durare l'animazione due secondi però fammela partire un mezzo secondo dopo rispetto alla fine dell'ultima animazione del testo quindi qui gli do 0,50 che è mezzo secondo cosa succede? se io rifaccio di nuovo l'anteprima dall'inizio qui l'ha scritta la propria cosa e qua è partita l'animazione mezzo secondo dopo l'ultima se io faccio qui ecco qua ritardo che ne so per farlo vedere bene mettiamo tre secondi anteprima l'ha scritta l'animazione qui passano tre secondi ed ecco che poi fa la sua animazione quindi li posso dire non solo quanto deve durare la singola animazione ma anche se farla iniziare in ritardo ovviamente qui devo mettere dopo il precedente altrimenti se io metto con il precedente cosa succede? succede questo che partono tutti assieme e non è quello che volevo perché io voglio espressamente che questa animazione del pennello parta dopo parta dopo quindi devo mettere dopo il precedente qui ovviamente annullando tutto è sparito il ritardo se io ce lo rimetto di nuovo quindi ci metto tre secondi rifaccio di nuovo l'anteprima qui aspetta tre secondi ed ecco che poi parte questa animazione animazione che se non mi piace posso cambiarla quando voglio vado qui mi dico anche opzioni effetto ovviamente volendo posso dirgli fammelo da sinistra a destra qui è troppo fuori quindi non viene visto ovviamente devo spostarlo qui qua adesso lo rifaccio di nuovo che non l'ha preso bene dicevo l'arco qui opzioni effetto verso sinistra ecco come esce verso destra lo stesso verso l'alto mi dà questa animazione qui adesso ingrandisco la diapositiva però non mi piace che ne so faccio forme ecco che me lo fa in tondo o posso dargli di farmi questa animazione a ottagono ovviamente è molto veloce se qui gli dico quattro secondi ovviamente lui andrà molto molto più lento e comunque posso lo stesso dargli anche altre cose che ne so gli posso dare vediamo un po' vediamo spirale ecco qua che gli dà questo effetto carino ovviamente dopo devo ricordarmi di mettere dopo il precedente così se faccio anteprima ecco cosa ne esce fuori stessa cosa se io avessi messo con il precedente tutto insieme anteprima esce così che ad alcuni può piacere ma io lo voglio dopo e quindi devo mettere dopo il precedente anche qui non mi piace questa animazione posso farci che ne so fasce ecco qua quindi anteprima si gioca giocate con le animazioni qua ha messo uno ovviamente se io metto con precedente rifaccio di nuovo l'anteprima ecco che mi esce tutto insieme lo stesso non mi piace questa animazione posso metterci che ne so morsa ecco qua quindi se io vado a rifare l'anteprima questa qui dura troppo poco durata 0,50 quindi mezzo secondo posso metterla a due secondi cioè gioco posso giocare con tutte le impostazioni qui due secondi sono troppi qua lo stesso posso fare uno un secondo a tutti e due quindi qua metto uno e qua lo stesso metto uno cioè vado a cambiare tutte tutte queste regolazioni fino a quando non mi piace il risultato finale tipo in questo caso poi ovviamente quando ho trovato le impostazioni i colori le immagini le scritte il testo che mi piacciono gli ho dato un'animazione che mi soddisfa carina tutto quanto ovviamente anche in questo caso qui opzioni effetto posso scegliere le varie opzioni qua adesso c'è chiusura verticale se io metto chiusura orizzontale ecco come mi esce lo stesso se faccio orizzontale apertura orizzontale o chiusura orizzontale qui uguale se è troppo veloce un secondo anteprima ecco qua quindi posso scegliere anche in questo caso vado qui opzioni effetto orizzontale o verticale insomma ogni effetto ce ne ha altri anche qui qui addirittura posso scegliere per i testi se io ho un testo molto lungo o comunque su più righe posso scegliere se fare questo effetto su una singola riga su tutto quanto il testo oppure per singolo paragrafo se ho una casella di testo con vari paragrafi posso scegliere animami solo un paragrafo tutti gli altri no o se no tutto insieme o riga per riga adesso ci sono domande? no direi di no tutto perfetto ma penso di essere rimasto solo mi sente? mi sente? mi sente? mi sente? mi sente? vediamo adesso sì adesso sì penso di essere solo spero di no comunque se ha domande da fare? no tutto perfetto tutto chiaro cioè quello che voglio dire io è quello che voglio dire che ho detto anche all'inizio è di non aver paura a sperimentare le cose quindi a giocare con i colori con le immagini e anche con le animazioni ovviamente come ogni cosa se sbaglio c'è il pulsantino che si torna indietro e mi annulla l'ultima notifica comunque adesso c'è un'ultima cosa visto che sono che ci manca una mezz'oretta qua c'è abbiamo visto le animazioni alcune animazioni poi come ho già detto qua posso cambiarci anche lo sfondo qua ci sono altri tempi altri temi se non mi piace si è bloccato tutto che mi si senta bene è bloccato tutto adesso è tutto bloccato allora vediamo un po' vediamo se qui no qua non mi dà non mi dà problemi niente è tutto bloccato forse è la mia linea non lo so tutto no è la linea di di Adriano ah ecco la sua infatti lo vedo sotto ma è tutto bloccato è uscito adesso vediamo quando rientra io ho visto sì grazie ma sei rimasto solo no no Maurizio tranquilli ah ah no sì invece ah ecco ma non mi sembra che abbia salutato mi sembra che sia finita dai principanti che sono soltanto io mi sono persa qualcosa insieme a te allora Maurizio non lo so io boh c'è stato un momento in cui lo vedevo lo sentivo ma era era c'era lo schermo bloccato per un bel po' poi è tornato a Grazie.